Ciao a tutti gli amici di Betting Tips for You Oggi voglio proporvi una doppia dal campionato spagnolo al campionato italiano e poi una singola sempre dal campionato italiano Per quanto riguarda la doppia vorrei proporvi Levante-Real Madrid Due, il Real Madrid che ha vinto la prima in campionato ha cambiato allenatore come sapete, come sappiamo è tornato Carlo Ancelotti è sembrato subito in gran forma con un Benzema in spolvero a Torre di una doppietta e quindi penso che possa vincere contro il Levante seppur fuori casa visto che la quota comunque è buona, è una buona quota L'altra partita invece che voglio proporvi è Roma-Fruentina, segno 1 La Roma ha già sordito ufficialmente nella propria stagione vincendo 2-1 con il Trabzonsport in Conference League, la nuova coppa della UEFA La squadra è arrivata e è tornata Morigno in Italia, questa è la grossa novità rispetto all'anno scorso la Roma è una squadra sicuramente più accorta, più quadrata l'anno scorso con Fonseca praticava un calcio più offensivo, subiva tantissimi gol quest'anno con Morigno, insomma conosciamo il gioco di Morigno, un gioco più accorto, più attento un baricentro più basso, però ecco è già sembrata abbastanza in forma invece la Fiorentina anche quest'anno parte con una situazione difficile perché dopo aver perso lo scorso anno Chiesa, due anni fa vero tu quest'anno potrebbe perdere Vlaovic, che l'anno scorso vi ricorderete che aveva consigliato più volte come marcatore ha fatto un campionato strepitoso e quest'anno sta avendo moltissime offerte di mercato si parla di Atletico Madrid e altre squadre di 70 milioni di euro però il presidente commisso non vuole cederlo, il giocatore è titubante sul rinnovo quindi c'è una situazione anche particolare, la Fiorentina che aveva preso Gattuso invece poi è andato via, al suo posto è arrivato italiano, l'ex allenatorello Spezia che è un buon allenatore, pratica un buon gioco, praticando un buon gioco con lo Spezia però ecco sempre la squadra ancora in costruzione quindi anche qui l'uno paga perciò ecco, ricapitolando, vi consiglio la doppia Levante e Real Madrid, due, Roma e Fiorentina, uno la singola invece vorrei consigliarvi, sempre dal campione italiano è Bologna Salenitana, due, perché vi consiglio questa singola? perché paga effettivamente molto e il Bologna viene da un precampionato brutto in Coppa Italia, all'esordo ufficiale, ha rimediato una figuraccia perché addirittura perdeva per 5 a 1 con la Ternanio promossa in Serie B, allenata da Rucarelli la partita è finita poi 5 a 4, quindi subito contestazioni per la squadra per Mialio, per il suo momento no la Salenitana invece ha fatto l'anno scorso un ottimo campionato con Mr. Castori che è un allenatore navigato in Italia è un allenatore che pratica un gioco, ecco, abbastanza vecchio un po' il vecchio catenaccio come si diceva una volta e quindi è contropiede, che oggi chiameremmo ripartenze però è una squadra comunque solida, rodata e in più ha messo dentro Simi che è stato veramente, secondo me, un grande acquisto infatti forse è anche un po' sprecato il giocatore che vi ho consigliato l'anno scorso più volte e ha segnato 20 gol lo scorso anno in Serie A perché ne aveva fatti comunque altri 20, ancora 20 in Serie B quindi comunque è un innesto importante e secondo me può vincere la Salenitana a Bologna può fare il colpaccio con una quota, come vi dicevo comunque importante quindi ricapitolando, la doppia è Levante-Real Madrid 2 e Roma-Fiorentina 1 la singola è invece Bologna-Salenitana 2 nel ricordarvi come al solito giocare responsabilmente vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di mettere mi piace a questo video e che pronostici sono nella descrizione come sempre vi saluto e auguro un buon calcio a tutti ciao a tutti ciao 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 ciao